Nuova assemblea dei lavoratori stagionali lunedì 6 febbraio alle ore 18 presso la sala della Badia Grande a San Michele per fare il punto sulle iniziative portate avanti sinora nella battaglia contro il dimezzamento dell'indenità di disoccupazione. Spiegheremo tutto quello che stiamo facendo e che faremo, spiegheremo anche la nostra proposta di legge a tutti quanti per vedere se viene accettata anche da tutti, quindi è molto importante venire perché si saprà quello che stiamo facendo dove siamo arrivati a livello nazionale perché questa è una lotta, una battaglia che si sta facendo non solo a Sciacca ma a livello nazionale perché siamo in tanti. Una forza importante per l'economia cittadina, tanti lavoratori stagionali che vivono quindi questo problema del dimezzamento dell'indenità di disoccupazione. Sì, già da quest'anno, diciamo che l'anno scorso ci sono stati dei rifiuti, ma da quest'anno si è vista la situazione e molte famiglie si lamentano perché non riescono ad arrivare a fine mese. Qua, come noi ben sappiamo, nella nostra città ci sono problemi a pagare la famosa tassa dei rifiuti quindi si va ad aumentare ancora queste persone che sono, c'è gente che vive sulla soglia della povertà un passo in più, un passo in meno può andare a finire da uno o dall'altra parte e questo non è una cosa bella, è questa legge che hanno fatto, è proprio ingiusta perché hanno colpito così senza avvisare a nessuno questa parte dei lavoratori che come ben dico a Sciacca conta oltre 2-3 mila e forse più lavoratori. In vari settori perché andiamo dal turismo al settore ittico-conserviero ma anche altre tipologie. Sì, come abbiamo detto, noi prevalentemente perché nel turismo diciamo sono più gli impiegati a livello stagionale ma anche gli ittico-conservieri e non ci dimentichiamo dei pescatori della pesca del cianciolo perché questi sono importanti, molti centinaia di marinai che vanno a lavorare al nord che lasciano le loro famiglie e poi ritornano qua e purtroppo lavoro non ce n'è perché dobbiamo dire la verità è che lavoro non ce n'è si ritrovano con la metà di indennità di disoccupazione e con gravi problemi a portare avanti la famiglia. L'assemblea di lunedì prossimo costituirà anche l'occasione per portare avanti un altro progetto quello di una partecipazione degli stagionali alle elezioni amministrative in città con una lista di candidati al Consiglio Comunale e un proprio candidato sindaco. Questo progetto va avanti, diciamo che va avanti e stiamo vedendo il da farsi, vedere quanto siamo perché poi contano i numeri e dico la verità i numeri ci sono eppure abbastanza. Faremo una lista in caso mai, faremo una lista nostra e propria perché noi non vogliamo assoggettarci alla politica perché andarci ad affiancare con un altro candidato sindaco significherebbe che andiamo a fare politica cosa che noi non facciamo perché l'argomento che stiamo trattando è importante.